Vediamo ora come si misura il volume di un oggetto per immersione in un liquido che tipicamente per noi è l'acqua. Riempiamo il cilindro graduato più o meno fino a metà. Qui il livello dell'acqua per esempio arriva fino a 56 millilitri. Poi immergiamo i vari oggetti. Qua per esempio vediamo che il livello dell'acqua supera i 73 millilitri. Sta a metà fra 73 e 74. In questo caso si può anche prendere come misura 73,5. Dunque come misura di volume si può prendere 73,5 più o meno 0,5 millilitri. Questo perché anche se la sensibilità del cilindro graduato utilizzato è di un millilitro, però noi difficilmente commettiamo un errore di un millilitro. Più ragionevolmente non sbaglieremo, con un po' di attenzione, e non sbaglieremo per più di mezzo millilitro. Quindi l'errore possiamo dimezzarlo. È come immaginare di vedere con l'occhio tra due di queste tacche e vedere altre tacche immaginarie e quindi dimezzare la sensibilità dello strumento. Cioè immaginare con l'occhio, con la mente, di vedere delle tacche immaginarie a metà strada fra queste che sono effettivamente segnate. E quindi la sensibilità non è più di un millilitro, ma diventa di mezzo millilitro. E quindi questa misura, il livello dell'acqua, adesso è 73,5 millilitri con un errore di mezzo millilitro. Appunto questo valore qua. Qui abbiamo altri esempi di misure di volume per immersione nell'acqua. Per gli oggetti più sottili, come questi tre parallelepipedi, conviene utilizzare un altro cilindro graduato che è più sottile e che ha il vantaggio di avere una sensibilità migliore di quello largo. Infatti, come vediamo in questa immagine, qui c'è il livello dei 10 millilitri, qui è 15 millilitri e ci sono in mezzo 10 tacchette, quindi vuol dire che ogni tacchetta è mezzo millilitro. Vediamo anche che il livello dell'acqua si trova a circa 13 millilitri, perché qui è 10, 11, 12, 13. Quindi scriviamo 13,0 più o meno 0,5 millilitri. Anche in questo caso potremmo dimezzare la sensibilità dello strumento e quindi immaginare delle tacchette aggiuntive messe tra le tacche vere. In questo caso la misura diventerebbe 13,00 più o meno 0,25, quindi una sensibilità dimezzata. Quando poi andiamo a immergere gli oggetti, i parallelepipedi, nell'acqua, vediamo che il livello si alza, in questo caso, per esempio, il livello è salito fino a 17,5 millilitri. Infatti qua è 20, 19, 18, 17,5. Ah no, scusate, ho sbagliato, io devo guardare il livello dell'acqua, non il livello dove arriva il parallelepipedo. Quindi adesso il livello dell'acqua è 19 millilitri. Anche qua vediamo che il livello dell'acqua è 19 millilitri. Nel caso del legno, siccome il legno tende a galleggiare, bisogna tenerlo un pochino spinto in modo che rimanga sott'acqua. Qua il livello dell'acqua è circa 18,5 millilitri. 18,5 o addirittura si potrebbe dire 18,75, essendo a metà strada fra 18,5 e 19. Un'altra accortezza da seguire è quella di immergere l'oggetto poco sotto al livello dell'acqua, in modo che lo spago che risulta immerso sott'acqua anche lui non alteri molto la misura del volume, perché adesso in questo momento noi stiamo misurando il volume dell'oggetto ma anche un po' di volume di spago. Quindi sarebbe il caso di tenere meno spago possibile sotto il livello dell'acqua. Attualmente lo spago sotto il livello dell'acqua è questo. Quest'immagine mostra invece la misura del volume del tappo di sughero, che anche lui bisogna spingerlo giù con questa bacchetta di legno, altrimenti va a galleggiare. Per effettuare la misura nel modo migliore bisognerebbe prendere una bacchetta più sottile di questa che ho utilizzato io, quindi magari uno stuzzicadenti, e ridurre al minimo possibile la parte di questa bacchetta di legno che è immersa in acqua. Quindi immergere il tappo appena sotto la superficie dell'acqua. La superficie dell'acqua la vediamo qua. Notiamo anche che per misurare il volume del tappo di sughero abbiamo dovuto ricorrere al cilindro più largo perché il cilindro più stretto, che era anche migliore come sensibilità, però era troppo stretto e il tappo non c'entrava. Quindi un altro accorgimento è quello di utilizzare come cilindro, di scegliere sempre quello più adatto per la misura, cioè quello che si adatta meglio alle dimensioni dell'oggetto da misurare. cioè in altre parole usare il cilindro graduato che è il più stretto possibile perché sarà anche quello con la migliore sensibilità.